Ciao a Matteo la Chimica e a tutti gli inviti del regista che si chiama Adriano, che voleva iniziare il video, no? Oggi hai iniziato tu il video nuovo per Jayland, salutiamo anche Walter e il mitico Pompey e salutiamo anche Michael che è un altro ragazzo che fa i video che oggi dovrebbe essere lì con Marcello, no? E adesso passi la linea a? A bambino. Qua, aspetta eh, allora qua che ti prendo, tutto, tutto, tutto real, tutto real time, ovviamente tutto real time, oh eccoci qua insieme, ci mettiamo bene a favore delle luce, allora, allora nuovo, nuovo video, no? Velocissimo, hai cominciato tu, perché tu sei il regista, il capo, lui è il capo e il regista boss di The Louis Channel, ovviamente ciao a tutti gli amici di Jayland, dal vostro Delio, questo è il bottino di Portman, allora una puntata oggi velocissima, perché non ci sono, no, non ci sono notizie rilevanti di calciomercato, io sfogliando Facebook per cercare un'ispirazione per la nuova puntata di Jayland, perché chiaramente siamo, cominciamo ad essere un po' a corto di argomenti, ma non volevamo mancare questo appuntamento, però volevamo essere presenti anche alla puntata di mercoledì, sono capitato sul profilo Facebook ufficiale di Paolo Di Bala e ho trovato questa foto che voglio ovviamente condividere con voi fratelli e sorelle di Jayland, eccolo qua, Paolo Di Bala e c'è ovviamente il suo post su Facebook, allenamento mattutino, corso e pallone, mi preparo al meglio per la nuova stagione con la Juventus, non vedo l'ora che si cominci, forza Juve, carico fino alla fine. Allora, caro Marcello, penso che il ragazzo si stia presentando nel migliore dei modi, nel vedere gli altri calciatori, chi sta in bucazza, chi al mare, chi in montagna, eccetera, 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 vedere Di Bala che si sta allenando prima del ritiro della Juventus, penso che possa essere il miglior viatico per la nuova stagione di uno dei nostri nuovi acquisti sui quali ovviamente stiamo riponendo tantissime speranze. Vedremo, magari, ecco, quando saremo un po' a carenza di argomenti andremo alla scoperta dei nostri nuovi acquisti, giusto? Giusto. Allora, per oggi vi salutiamo, vi rimandiamo ovviamente al video di lunedì, quindi salutiamo Marcello, tutti tutti gli amici di? Saludiamo ovviamente il mitico Walter, Jacaccione e il mitico Pompi e fino alla fine, forza! Juventus! Forza! Juventus! Forza! Juventus! Yes! Ciao a tutti a lunedì! Ciao a tutti! Grazie a tutti